3 8 8 1 1 10 11 Dov'è l'autorizzazione? Siamo ancora scopriando a fare. Per uscire il nuovo bisogno e il tuo avviso si fa bene abilato. Ogni secondo che le forze EICAT trascorrono su EICAT, disonora la memoria di questi uomini di persone che hanno perso la vita sul pianeta. Identità confermata. Nella proposta. Procediamo. Tutti comprenderanno ciò che è dalla parte dell'abilità. Chi è la p***a? Chi è la p***a? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.